Allora, bisogna distinguere i piani e correttamente l'ha fatto il Vice-Segretario del PD. Questi mesi si sono qualificati per la capacità di dialogo che per la prima volta in tanti anni c'è stata tra il leader della maggioranza che sta governando, Matteo Renzi, e il leader dell'opposizione, Silvio Berlusconi. L'approccio che Renzi ha dato alle riforme istituzionali e alla legge elettorale, che sono poi le regole della partita politica, noi l'abbiamo subito considerato valida e abbiamo risposto positivamente a questo invito e sono certo, e l'hanno dimostrato le votazioni in Senato, che non sono state facili, direttore, come avranno seguito tutti quelli che hanno letto i giornali, che hanno comportato una serie di mal di pancia all'interno dei singoli partiti, anche comprensibili quando si tratta di argomenti delicati come le riforme costituzionali, su cui è giusto che tante persone possano esprimere anche la loro sensibilità, ma proprio il fatto di fare insieme le regole della partita ha comportato che queste siano per la prima volta passate agevolmente tutto sommato in Senato e io credo che il percorso andrà avanti sia sulla legge elettorale sia sulle riforme istituzionali perché sono largamente condivise dalla più ampia parte dello schieramento costituzionale in Parlamento. Questa capacità di dialogo, però, e qui vengo al mio ruolo di opposizione, ha un valore, ha un valore molto profondo, proprio perché è la capacità di dialogo tra un leader che siede al governo e ha responsabilità di governo e un leader che siede all'opposizione e ha responsabilità dell'opposizione. Se noi non teniamo distinto questa posizione, lo facciamo chiaramente e lo farò tra poco, perde di valore anche la capacità di dialogo che Matteo Renzi ha voluto, pur avendo la maggioranza, se vuole, di andare avanti, aprire a tutte le forze politiche e perde di valore la nostra capacità di dialogare con un governo di cui però non condividiamo scelte.